Ciao ragazzi, benvenuti a questa sessione, sono Marco Zamana, oggi è il Global Power Platform Bootcamp, di cosa parleremo? Parleremo di Power Virtual Agent e di Bot Framework, due argomenti diciamo che solitamente entrano un po' in competizione fra di loro, è sempre, diciamo, diventa sempre fondamentale cercare di capire qual è l'approccio migliore sia per l'uno sia per l'altro. Oggi cercheremo di affrontare questo tema e cercheremo di trovare una linea guida che ci possa permettere di selezionare qual è il migliore tra questi due virtual assistant. Chi sono? Sono Marco Zamana, Head of Software Development in Forward Pro, sono co-founder di CloudGen Verona e da due anni sono Microsoft MVP per la categoria di intelligenza artificiale. Bando alle ciance, cerchiamo di partire per cercare innanzitutto di capire qual è il punto fondamentale nel contesto dei bot, che solitamente ovviamente è sempre un tema molto particolare, molto spinoso, per cercare molto spinoso dal punto di vista che andare a scegliere qual è il punto strategico migliore e anche a livello di business diventa una cosa che è solitamente difficile da comprendere. Un aspetto da valutare in primis è quello che riguarda le bot interaction. Di cosa stiamo parlando? Parliamo concettualmente della differenza tra un bot di successo e un bot non di successo. Perché dico questo? Solitamente per andare a definire e andare anche a costruire un bot bisognerebbe porsi alcune domande. La prima è ovviamente su quello, sulle motivazioni che spingono a utilizzare un bot. La seconda, e dovrebbe essere sicuramente a un livello superiore di questa comparison che sto facendo a livello di slide, una delle prime domande da farsi è il bot risolve i problemi dell'utente nel minor numero di step? Perché questo? Perché solitamente si cerca di implementare un bot senza avere una strategia. Vado a fondo delle domande per poi approfondire di più il concetto appunto strategico dello sviluppo del bot. La seconda domanda è il bot risolve i problemi dell'utente in maniera migliore, più semplice, più veloce di qualsiasi altra esperienza alternativa per questo? Oppure il bot funziona su ogni device o piattaforma e l'utente non deve preoccuparsene? Anche questo è un aspetto molto importante. È discoverable? Nel senso, gli utenti sanno cosa fare quando lo usano? Anche questo è una domanda fondamentale. Un bot non di successo? Che domande possiamo farci? È il bot smart? Supporta il natural language? Ha la voce? Perché queste differenze? Perché il contesto del bot e la scelta dell'utilizzo di un bot parte soprattutto da un'analisi UX importante. Perché dico UX? Perché nonostante la difficoltà che comunque ci può essere, vedremo anche le differenze nell'utilizzare un bot sviluppato ovviamente con Microsoft Bot Framework oppure con un Power Virtual Agent per creare un Virtual Assistant. Sono tutte, ovviamente partono tutti da dei concetti che bisogna avere ben chiaro quello che il bot deve fare e dove noi vogliamo andare col bot. Nel senso che l'utente deve essere in grado di essere accompagnato nel flusso conversazionale corretto. Perché parlo di flusso conversazionale? Perché è il contesto principale nel senso che due bot che tendenzialmente possono fare la stessa cosa ma non danno un feedback visivo immediato all'utente delle opzioni di quello che l'utente può fare e obiettivamente è un bot senza scopo. In questa slide vedete quello di cui sto parlando, nel senso sulla parte di sinistra stiamo valutando un bot che comunque alla domanda, al rapporto ovviamente con l'utente si pone fornendo delle soluzioni, quindi fornendo un estradamento per le informazioni che il bot può dare all'utente. Dall'altra parte invece abbiamo un bot che lascia la libera interpretazione a parte dell'utente. ovviamente nella parte di destra quale può essere lo step successivo che l'utente scrive ciao come va e la risposta è ovviamente un bot e risposta tra utente e bot con il bot che risponde chiedo scusa ma non ho capito. Al contrario invece nella prima fase abbiamo praticamente tre punti di ingresso dal quale partono tre diramazioni per tre flussi conversazionali differenti che sembrano un po' come 33-30. Il senso di tutto questo è il fatto che ovviamente l'interazione diventa fondamentale e nel contesto dell'interazione non possiamo non fare il paragone tra quello che è un bot e quello che è un'applicazione tradizionale. Perché questo? Perché il bot concettualmente diventa il nostro front-end. Vedremo che ovviamente a fronte di quello che è l'interfaccia grafica dietro tutto quello che viene svolto dietro può assolutamente rientrare in un contesto di back-end e deve rientrare in un contesto di back-end che ci permette di andare a chiamare delle API esterne ci permette di applicare un'intelligenza artificiale vedremo dopo che ci permette di applicare un flusso di Power Automate e chiaramente nel nostro contesto diventa il nostro punto di riferimento e punto di ingresso anche per l'interazione dell'utente. Nell'applicazione tradizionale infatti solitamente abbiamo un main screen con poi le nostre pagine per andare a fare le ricerche dei prodotti oppure andare a creare un nuovo ordine. Al contrario, nella parte del bot stiamo parlando di dialog, stiamo parlando di ovviamente un componente particolare che è il componente master per l'interazione attraverso il bot. come vi dicevo prima è il componente master perché ovviamente sono presenti varie tipologie appunto di card che ci permettono di fare delle più svariate cose ad esempio di comprare dei ticket per un concerto, di andare ad avere informazioni oppure andare ad acquistare diciamo dei biglietti per andare ad avere informazioni riguardo un volo e andare a prenotarci dei biglietti oppure avere ad esempio un lettore multimediale come andare a prenderci ulteriori informazioni appunto riguardo a dei metodi di pagamento o quant'altro. Ovviamente sono tutti elementi di un flusso conversazionale. Torno un attimo indietro per chiarire anche un altro aspetto. Soprattutto in questa slide dove c'è questa comparison quello che possiamo cercare di definire è che il punto strategico di partenza del bot deve essere ovviamente un'analisi UX accurata. Essenzialmente UX perché è quello che ci permette di definire l'interazione più efficace. L'efficacia dell'interazione è quella che ci porta ad avere un bot di successo ed è quella che ci porta comunque sia a non avere anche quella diciamo quella sfiducia nei confronti del nostro assistente virtuale. Infatti non dobbiamo dimenticare che l'assistente virtuale chiaramente è un qualcosa di creato comunque su misura e che chiaramente non può coprire tutti i livelli di knowledge che noi pensiamo a livello che noi pensiamo umanamente. Ma quello che può fare sicuramente è cercare quello che possiamo fare noi per aiutare il nostro bot è quello di chiaramente andare a definire quali sono le operazioni che deve fare e guidare l'utente in questo flusso. Tendenzialmente io lo definisco solitamente un funnel di informazioni perché con l'obiettivo di portare il cliente a fare delle operazioni noi dobbiamo incanalarlo attraverso dei flussi conversazionali. Vedremo poi che ovviamente il Power Virtual Agent ci aiuta in questo. Faremo anche la comparison con la parte di bot framework perché daremo anche un rapido sguardo al bot framework composer per anche metterli a rapporto e cercare di capire cos'è quello che fanno che tipo di strumenti sono, che differenze ci sono tra questi elementi diventa ovviamente un punto di incontro il poter aiutare il nostro utente il nostro bot a intraprendere appunto questa conversazione che deve essere efficace. Andiamo sulla parte di Power Virtual Agent. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ovviamente di un SaaS offerto da Microsoft e diciamo ci permette di andare a sviluppare diciamo bot in maniera molto facile. gestiamo tutto quanto all'interno della nostra interfaccia web ovviamente Power Virtual Agent non serve ovviamente che lo spiego fa parte ovviamente del mondo Power Platform quindi in tutto questo contesto SaaS noi possiamo andare a sviluppare tutto quello che è ovviamente dei flussi di conversazione con i nostri utenti possiamo ovviamente innescare dei contesti di intelligenza artificiale in maniera molto semplice cosa vuol dire questo? vuol dire che non c'è infrastruttura da mantenere che non è un sistema molto complicato mi verrebbe da dire che come qualche anno fa non è in preview come era il bot framework composer ma concettualmente abbiamo un sistema che ci permette di avere un risultato efficace in maniera anche molto diciamo veloce. Allora una ovviamente andando anche a guardare poi l'interfaccia che vediamo all'interno di questa immagine poi in caso ovviamente la vedremo anche dopo e ci permette l'interfaccia ci permette di innanzitutto andare a selezionare tutte queste voci all'interno del menu dalla quale ovviamente partiremo dopo dai topics per poi andare alle varie entities la cosa più importante è che possiamo seguire il nostro flusso di conversazione all'interno tramite la chat e quindi potremo interagire sulla test chat con il nostro bot per poi avere ovviamente seguire il nostro flusso in maniera molto facile questo vuol dire che abbiamo innanzitutto non utilizziamo codice se non anzi direi che non utilizziamo proprio codice seconda cosa togliamo anche quel tipo di expertise che riguarda l'intelligenza artificiale che in un contesto di bot di bot framework ci costringerebbe diciamo a chiamarne a chiamare una persona che possa avere la conoscenza poi di sviluppare di poter diciamo integrare il nostro bot o con l'UIS magari o con un possibile Q&A tendenzialmente all'interno ovviamente del mondo Power Virtual Agent siamo un pochettino più siamo un pochettino più diciamo liberi di poter inserire l'intelligenza artificiale vedremo poi che risultati tendenzialmente sono leggermente diversi possiamo ovviamente abilitare quello che è una specie di conversazione naturale abbiamo ovviamente il mondo della I che possiamo ovviamente come dicevo inserire all'interno di tutto questo contesto possiamo gestire anche delle conversazioni multiturno e possiamo ovviamente cercare di trovare la soluzione che ci serve nel minuto del tempo possibile un aspetto un aspetto anche molto importante è che come vedete qui a parte la definizione dei topic abbiamo anche ed è una cosa che c'è anche all'interno ovviamente del bot framework la possibilità di effettuare il publish del nostro bot su varie channel e ovviamente il channel che noi utilizzeremo oggi è quello di Teams quindi vi faremo vi farò vedere appunto la demo di un bot che abbiamo sviluppato all'interno di che abbiamo sviluppato in CloudGen un altro aspetto importante è anche il monitoring delle performance come infatti Power Virtual Agent al suo interno ha una tab di monitoring che ci permette di andare a vedere quali sono i topics che vengono utilizzati quali sono effettuare diciamo analisi dei nostri flussi conversazionali per cercare anche di capire come migliorarli per quello che riguarda l'intelligenza artificiale ovviamente questo diventa uno strumento importante perché ci permette di andare a migliorare a fare del tuning su quelli che sono gli argomenti che noi andiamo a incorporare all'interno del nostro del nostro bot possiamo anche andare ad eseguire delle azioni come vi dicevo non è solo il bot cioè non è quello che si vede ma come si può dire dietro il bot c'è di più nel senso che abbiamo la possibilità o di andare ad attivare dei meccanismi di flow o di andare e quindi possiamo prendere e utilizzare i vari connettori per agganciarci ipoteticamente al nostro mondo Office 365 quindi nel caso in cui avessimo un Power Virtualized che deve andare all'interno di uno SharePoint per andare a recuperare delle informazioni possiamo attivare il nostro flusso attivare un flusso di Power Automate e concettualmente andare a fare dei flow che ci permettono di recuperare informazioni o compiere delle azioni magari nel caso in cui dobbiamo far partire dei flussi approvativi dobbiamo fare delle attività possiamo integrare facilmente il nostro frontend con il nostro backend in maniera molto easy rientriamo ovviamente poi in tutti quei contesti Power Platform che già conosciamo l'altro aspetto importante vi dicevo è il monitoring dell'improve delle bot performance perché andare a capire come sta funzionando il bot è un aspetto molto importante ci dà visione di come poterlo migliorare e ovviamente il consiglio strettamente passionale che do è quello di non smettere di monitorare come ogni sistema di intelligenza artificiale il monitoring permette l'improving e quindi è importante cercare sempre di monitorare per cercare di migliorare sempre migliorare sempre quello che è il flusso conversazionale del bot migliorare il flusso conversazionale del bot comporta dei benefici nel senso ci porta indietro dei benefici innanzitutto permettere agli utenti di guadagnare fiducia verso l'assistente virtuale che stanno utilizzando secondo permette anche di secondo successivamente la fiducia la possibilità di migliorare appunto l'AI che ci sta dietro permette all'utente di continuare poi nell'interazione direttamente col bot quindi è diciamo un circolo che permette al bot di migliorare se stesso ma di migliorare anche la vita diciamo degli utenti che lo utilizzano qui arriviamo al punto leggermente come si dice un po' particolare nel senso che ovviamente la Power Virtual Agency ha un costo di licensing e il costo è quello che voi vedete in questo momento al mese per 2000 sessioni e bisogna anche capire che la sessione un'interazione tra utente e bot comincia quando è triggerata la user topic e finisce quando c'è una di queste condizioni o la risposta è stata data oppure la conversazione cede in 60 minuti o 100 turni attenzione però con questo noi possiamo andare a creare e mantenere 1000 bot con 2000 sessioni e ci abilita anche l'utilizzo del CDS quindi como data services per quella capacity e e ovviamente andiamo a guadagnare anche diritti per quello che è le parti di Power Automate quindi possiamo eseguire molte più azioni nel caso in cui andiamo a finire le sessioni si può andare ad acquistare quello che è l'add-on delle session per mese aggiungiamo 1000 sessioni è arrivata un attimo la conclusione di questa preview generale prima di vedere poi proprio il mondo Power Virtual Agent ovviamente bisogna parlare dei pro e dei contro i pro sicuramente sono che non abbiamo interfaccia grafica quindi abbiamo interfaccia grafica quindi siamo in un status di no code non abbiamo bisogno di data scientist per andare ad analizzare andare a verificare quello che è il mondo ovviamente dell'intelligenza artificiale stiamo minimizzando tutti gli effort IT e ovviamente andiamo a eliminare il gap tra gli stakeholder e concettualmente chi sviluppa quindi questo cosa vuol dire che un Power Virtual Agent può essere fatto da una persona che concettualmente magari non ha un background tecnico così importante e i contro ovviamente i contro diventano concettualmente le stesse preoccupazioni che possono esserci nel momento in cui si sceglie di fare ad esempio un'applicazione con Power Apps o Power Automate o con dei flow appunto oppure farla a livello coding totale si pensa sempre di non avere il controllo totale si pensa sempre che sia difficile lo scenario complesso chiaramente questo più che un contro diventa una valutazione che deve essere fatta a livello di analisi per cercare di capire appunto se lo scenario calza pennello per quello che riguarda il mondo Power Platform Power Virtual Agent sicuramente vedremo dopo cioè permette comunque di risolvere in maniera molto veloce delle problematiche e poter integrare un bot in maniera molto semplice ok adesso andiamo alla nostra demo e un attimo condivido il monitor corretto facciamo così ecco molto bene perfetto allora eccoci qua all'interno dell'interfaccia appunto della Power Virtual Agent questo è il Virtual Assistant dominide come vedete e quello che noi andiamo a fare in questo momento è andare facciamo una piccola rapido excursus di tutto quello che sono le funzionalità e poi e poi diciamo prendiamo con proprio la nostra demo allora nel menu praticamente sulla sinistra abbiamo la parte di home dove vediamo appunto dove ci sono queste queste rapide action cioè abbiamo la nostra interfaccia per il test bot abbiamo la possibilità di fare un publish e di ottimizzare il nostro bot quindi andare a vedere appunto questi link sui channel e sulla nostra la nostra reportistica all'interno di Topics c'è quella parte diciamo più interessante di tutte dove ci sono definiti punti Topic dentro cui poi andremo a visualizzare i nostri flussi conversazionali quando voi create un Power Virtual Agent ci sono all'interno questo tipo queste lezioni che sono appunto già preconfezionate per darvi una piccola overview di come magari si può fare a fare alcune attività se andiamo nelle entities qui entriamo ad un livello diciamo di skills leggermente diverso perché parlo di skill perché appunto all'interno delle entities ci sono definite diciamo quelle tipologie di informazioni che il bot potrebbe andare a recepire durante un flusso conversazionale facciamo un esempio se io faccio un flusso conversazionale dove chiedo al bot di chiedere all'utente quanti anni ha sulla base di come io vado a impostare le entiti perché possiamo farle anche di custom posso andare a spiegare il bot come andare a prendere l'informazione che mi serve facciamo un esempio dico al bot di chiedere quanti anni ho io rispondo al bot quanti anni ho e con quell'informazione il bot va a fare delle cose questo è un esempio di come poter utilizzare le entiti ci sono di pre-built come vedete la parte di age la boolean la city color continent e quant'altre e ce ne sono anche di non built nel senso che possiamo possiamo costruirle anche noi un'altra parte interessante e vi dicevo la parte di analisi perché la parte di analisi perché da questo noi riusciamo a capire come quanto bene sta andando il nostro bot cosa sta facendo e che scopo potremmo potremmo darle al bot stesso qui all'interno possiamo vedere il livello delle sessioni quante sessioni risolte quante abbandonate quante scalate e quant'altro e possiamo andare a vedere i driver nel senso quante volte sono stati presi appunto dei topic con anche i livelli di dettaglio se io entro dentro a quel link che avete visto cioè questo link qua entriamo appunto in un dettaglio un attimo di pazienza e qui mi ha rimandato nella parte di là vabbè vediamo dopo dovrei vedere comunque dettaglio appunto di questo tipo di escalation in alto abbiamo anche la customer satisfaction e la parte la parte di building di sessions adesso ovviamente non ci sono sessioni c'è anche la parte di billing la parte di billing che ovviamente dice quante sessioni sono state utilizzate e quante erano previste dopodiché c'è il tab publish che questo è il tab ovviamente leggermente più importante perché noi qui possiamo andare a definire come pubblichiamo se pubblicare o meno il nostro bot e abbiamo il tab manage dove andiamo a gestire proprio tutto il nostro virtual assistant all'interno qui andiamo a definire il nome e l'icola possiamo andare a definire anche i channel su quale andare a pubblicare appunto il nostro bot noi come vi ho detto abbiamo fatto ho sviluppato la demo con Teams ma poi possiamo pubblicarla all'interno del demo website e custom website mobile app Slack Cortana Skype Facebook e quant'altro quindi è anche abbastanza semplice da cercare diciamo da poter pubblicare possiamo anche andare a impostare a un livello di security questo è importante soprattutto anche per la parte di autenticazione immaginiamo ad esempio che il nostro il nostro bot abbia necessità di andare a vedere dei dati sensibili all'interno della nostra organizzazione all'interno della chat di Teams si può andare a impostare l'autenticazione per essere sicuri che appunto quell'utente insomma sia almeno un utente interno questo permette ovviamente poi di andare a gestire eventuali flussi eventuali raggruppamenti con utenti che è all'interno del nostro tenant comunque è possibile e parte sempre dal concetto in cui dipende da quello che dobbiamo fare come vi dicevo poi c'è anche la parte di web channel security con tutte le security le secret i token e poi c'è la parte di skill cosa sono gli skill per chi per chi conosce un po' il mondo Microsoft per l'intelligenza artificiale le skill sono diciamo delle capacità che noi diamo al bot di effettuare un altro tipo di operazioni ad esempio possiamo dire bot segnami un appuntamento che voglio o tipo formula meglio manda un appuntamento al mio amico Giovanni per le ore 17 dalle ore 17 alle ore 18 e il bot automaticamente prende queste informazioni e va ad eseguire l'inserimento nel nostro calendar di un appuntamento da ora a ora oppure possiamo dirgli manda questa mail al mio capo e manda questa mail al capo sono tutti add-on che possiamo costruire e possiamo integrare dentro ovviamente il nostro port vediamo se li abbiamo scorsi tutti molto bene ok allora adesso andiamo a vedere quello che sono la parte di topics e cominciamo ad analizzare appunto il primo topics che è quello evento quindi come facciamo entriamo dentro e accediamo alla parte di setup la parte di setup cosa ci fa vedere ci fa vedere che andiamo come prima cosa dobbiamo andare a dare un nome e questo ovviamente è banale possiamo andare a dare un friendly name in maniera tale che così possiamo capire appunto all'interno dell'autore in canvas che tipo di topic che stiamo utilizzando è una descrizione dopodiché andiamo a definire quelle che sono le trigger phrases che sono ovviamente quelle frasi che vanno a triggerare questo tipo di topic nel senso questo è il topic evento la fase che lo triggera è eventi cloud gen quindi se io qua vado a scrivere eventi partirà il trigger relativo a questo topic cosa interessante all'interno dell'autore in canvas c'è tutto il flusso e qui entriamo nel contesto power platform perché abbiamo ovviamente tutto il flusso conversazionale la parola flusso conversazionale ovviamente fa venire in mente il contesto del flow di power automate e obiettivamente siamo proprio lì abbiamo le trigger phrases ottimo e quindi praticamente vuol dire che queste sono le frasi che ci triggerano questo topic sotto andiamo a definire appunto degli step o delle action diciamo che vengono poi intraprese all'interno del nostro bot cosa abbiamo noi abbiamo innanzitutto la parte di messaggio questo era ovviamente una cosa sviluppato per un evento passato però noi possiamo andiamo a utilizzare questo messaggio per rispondere al nostro utente andiamo poi a fare anche un'altra cosa andiamo a fargli una domanda gli facciamo una domanda e gli chiediamo quanti anni hai e cosa stiamo facendo stiamo andando a fare una domanda per identificare quello che è una entity e questo è il caso proviamo a farlo da capo ask a question e gli diciamo da dove vieni e qui abbiamo la possibilità nell'identify o di andare a fare delle domande o di andare a prendere direttamente tutta la risposta magari ci serve tutta la risposta per andare a fare un altro tipo di operazione possiamo andare a prendere utilizzare le entiti di tipo age boolean oppure city eccolo qua e salvare la risposta all'interno di una variabile che è questa adesso nello specifico io questa la cancello perché in verità c'è già sotto e vi faccio vedere nel caso degli anni nel caso degli anni io qua cosa vado a fare vado a identificare innanzitutto la entity e vado a salvare la risposta in age poi vado a fare un'altra tipologia un altro tipo di domanda per quello che riguarda appunto la entity della city e vado a salvarmi la response qui sto andando a fare praticamente andare ad aggiungere una condizione come è in questo caso qua vedete sto andando ad aggiungere una condizione e in questa condizione dico che se la città vuole a Verona va a fare un altro tipo di cose né in tutte le altre condizioni deve fare un altro tipo di cose andiamo a vedere effettivamente nell'utilizzo cosa succede proviamo a scrivere ecco qua come vedete ho interagito col bot il bot mi risponde quello che vi dicevo prima dell'importanza che il bot debba rispondere in una data maniera è fondamentale e questo è appunto l'esempio di cosa hai bisogno eventi informazioni cloud gen e founder info io nello specifico premo eventi questo è un flusso conversazionale differente non sto entrando qua perché in verità anche questo ciao è un topic faccio un passo indietro per farlo vedere saluti di apertura saluti di apertura un topic che viene triggerato quando io scrivo queste cose qua se io vado nel canvas è un topic praticamente automatico vedete che questa è la risposta facciamo un gioco ciao sono mini nel power virtual agent posso aiutarti con domande relative all'associazione Claudia Verona che è quello che ci rispondeva e gli diciamo scegli cosa vuoi fare e potremmo fare che se lui se diciamo rientra in 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 eventi lo rimandiamo sul nostro flusso conversazionale quindi facciamo questo esempio lo rimandiamo in eventi e e usciamo scusate togliamo questo che abbiamo e lo indirizziamo da da qualche parte lo mandiamo ad esempio su un altro topic che è quello degli eventi e salviamo un attimo di attesa salvato con successo e qua interagiamo ciao ciao sono un mini power virtual agent voglio gli eventi eccoci qua siamo entrati innanzitutto avete visto muoversi questa interfaccia sulla destra ed è perché con la stessa metodologia dei flow ovviamente stiamo utilizzando dei flow conversazionali del nostro bot e quindi stiamo entrando in questo contesto e stiamo cercando di capire delle informazioni di poter avere recepire delle informazioni il bot ci sta domandando quanti anni ho a me piacerebbe dirgli 24 ma purtroppo gli devo dire 38 mi chiede dove vivo io vivo a Verona attenzione io ho detto al bot dove vivo e vivo a Verona ma il bot mi sta chiedendo due cose però Verona Island oppure Verona e dico Verona e la risposta è ciao Verona prego andiamo a vedere il nostro topic così lo capiamo meglio no scusate ho ripremuto ecco eccoci qua cerchiamo di rivedere questa informazione io scrivo eventi con eventi rientro automaticamente dentro il mio topic evento perché è una delle parole che lo trigger quindi è questo mi chiede quanti anni ho adesso gli mento spudoratamente mi chiede dove vivo e scrivo Verona vedete che non c'è niente che sta andando a prendere questo tipo di condizione ma è direttamente la I che mi sta chiedendo questa cosa perché perché ovviamente le Entity stanno andando a prendere delle città reali e quindi se ci sono due città che ovviamente vanno come si dice se bisogna scegliere tra due città perché ovviamente hanno il nome simile la I interna del Power Virtual Agent si occupa di andare a chiederci questo tipo di informazioni e in questo caso viene ridirezionato verso i ringraziamenti che è un altro topic ancora ma se io gli avessi detto un'altra cosa quindi entriamo lì qua io ho ancora 28 anni 10 anni fa e gli dico che vivo a Milano cosa mi dice? mi dice che innanzitutto ho fatto una concatenazione tra la città e la variabile dell'età che avevo definito questa qua Power Age e inoltre vado a mandare un messaggio privato a un ipotetico agente per andare a dire l'utente che ha fatto questo tipo di azione questa transfer to agent è la più classica del passa questa informazione a un operatore reale vuol dire che se io ho un bot che arriva a un certo punto dove termina il flusso conversazionale non ha risposte dall'utente perché o l'utente non è chiaro o il bot non comprende bene quel particolare flusso esiste l'opzione di trasferimento a un agent vuol dire che che il bot può inviare queste informazioni a un utente il quale riceverà l'intera conversazione volendo e può anche andare comunque a fare delle domande e intraprendere la conversazione direttamente provate a immaginarvi magari all'interno di un sito in cui andate a dare delle informazioni sul livello di licensing il bot non comprende ridireziona l'utente e comunque sia l'utente può gestire magari un flusso questa conversazione direttamente o anche se fosse direttamente commerciale e questa è diciamo un flusso conversazionale abbastanza interessante esiste però un altro un altro flusso conversazionale che avevamo visto prima ma no scusate sempre questa è sempre quella ed è il flusso esempio dell'insulto cioè se io al bot scrivo cattivo il bot mi dice mi risponde e mi chiede vuoi ricominciare o parlare con un operatore questo è l'altro esempio che vi dicevo prima andiamo a vedere il flusso conversazionale il flusso dice che se io ricomincio ho R direct a nuovo inizio altrimenti transfer to agent e mandiamo un messaggio privato alla gente dicendogli che l'utente è sgarbato questo è molto interessante un altro un altro livello un altro livello che possiamo andare a vedere è questo che giorno è oggi andiamo a vedere qui è una semplice è una semplice risposta ma vi faccio vedere anche un altro esempio che era mi sembra ancora qua se non lo possiamo anche fare noi al volo poniamo il caso in tutte le altre condizioni noi possiamo andare ad aggiungere un'azione l'azione potrebbe essere vediamo questa aggiungiamo un nome chiamiamo un'azione creiamo un flow lo possiamo fare siamo all'interno della power platform quindi concettualmente noi possiamo attivare il nostro flow per andare a fare delle azioni come funziona? si apre ovviamente power automate abbiamo un input e dobbiamo dare un output perché riceviamo in input quello che ci arriva direttamente dal bot e dobbiamo gestire ovviamente quello che quello che deve tornare direttamente dalla parte di là quindi se il nostro input è ipoteticamente mi sembrava che fosse siti possiamo poi all'interno andare ad aggiungere delle azioni di qualsiasi tipo quindi possiamo non so andare a fare delle predizioni andare a mandare delle mail quello che vogliamo e possiamo ovviamente abbiamo tutta la suite da utilizzare senza senza remore e possiamo andare a tornare a un output e il nostro output potrebbe essere lo stesso valore di input ad esempio possiamo andare a fare questo tipo di operazioni la cosa più interessante di tutto questo è che è lo scenario che si apre attraverso l'utilizzo dei connettori perché ovviamente in questo caso potremmo andare ad agganciarci a un sharepoint di turno ma potremmo andare ad agganciarci a dei sistemi esterni come ad esempio ad Opsign o come ad esempio andare ad utilizzare anche Dynamics oppure andare a utilizzare ovviamente l'invio delle mail o quant'altro ci sono qui sta ovviamente un pochettino alla come si dice alla fantasia nell'utilizzare questo tipo di questo tipo di cose sappiate che comunque ovviamente facendo così avete la libertà comunque di andare un pochettino ovunque e nello specifico quando voi andate a creare effettivamente un andate a creare un flusso potete questo flusso poi lo vedete all'interno di l'interfaccia che mi sta facendo gli scherzoni potete andarlo a richiamare direttamente dal vostro flow quindi questo è un power automate che accetta come input una variabile che possiamo andare a selezionare e mi porta fuori questa variabile che è di un altro tipo si chiama start variabile e quindi possiamo dire che qua fa visualizzare start variabile ad esempio e salviamo quando noi salviamo ovviamente abbiamo la nostra la nostra chat su cui possiamo andare a testare possiamo andare a testare gli eventi adesso ne ho 24 bellissimo Milano ecco cosa fa questo flusso andiamo a vedere il flow abbiamo il collegamento andiamo a vederlo non fa nient'altro che quello che abbiamo visto prima nel senso prende un input di variabile e torna a un output in maniera molto easy vedete input start variabile e start variabile diventa output molto ma molto easy e il risultato comunque è questo ma noi siamo adesso nel punto in cui diciamo io voglio pubblicare io ovviamente ce l'ho già agganciato a teams questo questo il bot eccolo qua scriviamo ciao eccoci qua no scusate quello è un altro umidide era un umidide vecchio qui abbiamo gli eventi vedete questa io l'avevo modificato prima quindi questo prima non c'era adesso io l'ho pubblicato perché gli sto dicendo gli ho dato l'aggiornamento del bot qua mi chiede ancora quella cosa lì di Verona quindi stiamo tornati di qua se io adesso gli chiedo ancora eventi e gli dico che ho 29 anni dove vivo gli dico Milano adesso cosa succede Milano Milano 29 ha fatto partire flow io vado a vedere vado a vedere anche i miei flow e dovrei avercene uno di pochi secondi fa eccolo qua 12 secondi fa verso e la stessa cosa se gli vado a scrivere stupido lui è entrato adesso nel topic ovviamente dell'insulto e qua posso ricominciare o parlare con l'operatore e questo è il mondo Power Virtual Agent e come vedete è fantastico adesso perderò 5 minuti per farvi vedere anche il mondo Bot Framework nel senso che all'interno del mondo di Bot Framework c'è un tool che è simile ovviamente richiede un po' più di skill poterlo usare che è il mondo del Bot Framework Composer il Bot Framework Composer ovviamente è diciamo un'idea che è stato messo a disposizione da Microsoft per lo sviluppo dei bot i bot possono essere anche sviluppati tramite coding qui si può aprire una discussione un'infinita discussione se utilizzare il Bot Composer o se utilizzare il coding ci sono certi aspetti secondo me che col Bot Composer ancora un pochettino si fa fatica quando era in preview era veramente difficile utilizzarlo perché comunque erano parecchi bug però diciamo che se si vogliono creare dei bot si può partire dal Bot Composer e cercare di capire se effettivamente può essere migliorabile con del codice oppure no anche qui si parla di flussi conversazionali come vedete il giro più o meno simile ci sono chiaramente possiamo andare ad aggiungere delle response fare delle question fare delle conditioning attivare un looping andare a creare un nuovo dialog e a gestire delle risorse esterne quindi possiamo connetterci con delle skill possiamo chiamare delle API fare uno auto login possiamo connetterci con Q&A possiamo fare send out dello user e possiamo anche andare a debuggare alcune cose se noi andiamo a fare un nuovo dialog ovviamente di qua si aprono tutti degli scenari sulla tipologia del dialog o quant'altro però diciamo che a livello base abbiamo sempre uno strumento visuale che ci permette di utilizzare di creare dei bot a livello a livello poi di interfaccia possiamo andare a creare delle note knowledge base per il Q&A possiamo vedere la diagnostica possiamo attivare appunto il publish e possiamo andare a settare quelle che sono ovviamente dei process settings nel termine process settings abbiamo l'end point abbiamo tutte le informazioni relative all'APD che ovviamente bisogna cercire all'interno del tenant le chiavi per accedere appunto agli UIS stabilire il linguaggio del bot perché anche questo non è banale se ovviamente una persona a Teams in inglese se ad esempio il bot è orientato solo a Teams oppure se si vogliono utilizzare i flussi conversazionali magari in italiano o quant'altro andare a vedere appunto gli eventuali possibili runtime che possono servire perché si configura il bot per customizzarlo a meglio e vediamo e ovviamente quello che si può fare all'interno di questa interfaccia è cercare di ovviamente fare dei test immediati quindi ci vuole utilizzando ovviamente il bot emulator installato ovviamente sulla vostra macchina potete innanzitutto far partire questa istanza locale appunto del bot e testarla con un emulatore in maniera abbastanza veloce come vedete adesso parte del bot framework emulator e qui possiamo andare a scrivere ciao e andare a interagire ci vuole di solito un attimo perché ovviamente è come se si tirasse su chiaramente un'applicazione da hotnet e ci vuole un attimino questo era un bot che andava a puntare appunto andava a puntare a delle API esterne tramite tramite chiamata HTTP adesso il sito ovviamente è stato tolto però di base ovviamente se io qua vado a chiamare Tosato mi dice che non ci sono elementi perché la chiamata che siamo andati a fare ovviamente è chiusa cioè non c'è erano saltate le API di là flussi conversazionali vuol dire ovviamente gestione del turno quindi qua come vedete chiamata HTTP di risposta e chiamata HTTP di richiesta è un bot e risposta vi suggerisco di guardare a riguardo appunto il concetto di turno che è molto importante nel bot framework per migliorare poi anche il know relativo alla parte di flusso conversazionale bene io direi che direi che ho quasi concluso all'interno appunto qui ci sono le slide dove appunto andavo a spiegare che il composer era un IDE diciamo che ci permette di andare a eseguire tutta una serie di operazioni e ovviamente all'interno del composer abbiamo language generation e Lewis integrabile assieme al Q&A se direi di aver concluso io vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato per avermi dato attenzione per aver seguito tutto questo mondo in RentalBot ringrazio gli organizzatori e buona giornata grazie Marco per la sessione devo chiedere scusa ancora ai partecipanti per il problema che abbiamo avuto con la room e niente abbiamo dovuto ricrearla al volo perché si era chiusa e probabilmente nell'andarla a ricreare ci siamo persi di mettere il flag per abilitare le domande e le risposte per cui ti ho seguito Marco sei stato molto chiaro spero che anche chi ha partecipato abbia percepito tutto quello che hai detto per cui ti ringrazio ancora se nel caso avessero delle domande marco.zamana chiocciola cloudgen.it esattamente e ovviamente usate il QR code che vedete qua per lasciare il feedback alla sessione bene adesso abbiamo ancora 8 minuti quindi non lo so Marco se vuoi raccontare ancora qualcosa oppure oppure no dimmi te beh allora diciamo che la parte sempre inarente al bot la parte ovviamente che anche per l'esperienza personale ritengo veramente importante è quella appunto della definizione della UX perché tendo a procrastinare tantissimo ma credo che sia molto facile creare dei bot dove alla fine è molto semplice scoraggiare poi l'utente nell'utilizzo certo ora ne approfitto ti faccio magari una domanda che magari può anche essere una delle domande che i partecipanti vorrebbero fare ma non riescono tu in una delle prime slide hai fatto vedere sostanzialmente la parte di licensing e insomma la parte di licensing per quanto riguarda questo servizio è abbastanza come si può dire costosa dal punto di vista proprio economico quindi la domanda che ti faccio è in realtà te ne voglio fare due la prima è nella tua esperienza hai avuto clienti che comunque vanno adottare nonostante questo prezzo elevato uno strumento come Power Virtual Agent e quindi questa è la prima domanda mentre la seconda domanda che ti voglio fare è dal momento che è uscito da poco in realtà esiste Dataverse for for Teams e la parte di Power Virtual Agent all'interno di Dataverse for Teams è sostanzialmente gratuita la mia domanda la seconda domanda sarebbe esperienze su questo richieste di clienti che vogliono magari utilizzare non Power Virtual Agent stand alone ma all'interno di Teams o cosa? Allora parto dalla seconda ancora no nel senso secondo me ancora deve passare per bene all'esterno questa cosa qua è vero torno alla prima dicendoti che è vero che costa parecchio nel senso che però comunque sia c'è del valore aggiunto che è quello comunque di poterlo fare senza dover applicare del codice quindi se hai bisogno di un virtual assistant da mettere fuori in maniera molto veloce e immediata e non hai un team di sviluppo che deve lavorare sulle integrazioni con magari i sistemi di API che hai dentro oppure magari addirittura hai già dei flow al quale vuoi agganciare direttamente il tuo bot cioè il tuo Power Virtual Agent è lì e ti dà valore aggiunto è vero paghi di più però al tempo stesso sai è tutto più facilitato chiarissimo anche la I poi scusa a livello di Lewis non è facile integrare Lewis all'interno di un bot cioè devi bisogna capire bene quali sono gli intenti bisogna capire bene poi come continuare ad addestrare i modelli di apprendimento non è facile diciamo che questo vale un po' per tutta la Power Platform cioè il fatto di essere un insieme di servizi low code chiamiamoli così o addirittura no code come possono essere Power Virtual Agent facilita poi anche come si può dire la manutenibilità di una soluzione all'interno di un'azienda perché il codice può essere scritto in mille modi diversi ognuno di noi ha il proprio stile anche per scrivere codice anche dal punto di vista proprio di architettura dell'applicazione e di conseguenza anche un bot invece magari utilizzare uno strumento come questo permette di unificare il modo con cui si possono sviluppare caso specifico bot all'interno di un'azienda assolutamente e poi al tempo stesso comunque ti apre lo scenario inverso che è molto semplice sbagliare e andare a utilizzare magari la Power Platform quando in verità sarebbe necessario utilizzare coding perché magari sottostimi la grandezza del progetto e rischi ovviamente poi di rimanere un pochettino castrato si potrebbe pensare di fare magari più avanti una sessione solo su questo cioè come scegliere lo strumento più adatto per sviluppare le applicazioni aziendali da codice fino alle 23 dovremmo dire secondo me anche qualche birretta riguardo l'evento solo per questo assolutamente ottimo ti ringrazio ancora Marco e adesso abbiamo ancora tre minuti e fra poco farà join Giorgio per la sua sessione ti ringrazio ancora va bene grazie grazie a tutti ciao 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 ciao